ciao oggi mi trovo in provincia di lodi sono venuto a visitare questa casa abbandonata vedete dovrebbe essere una casa c'è anche l'officina adesso entriamo dentro e andiamo a visitarla possiamo anche passare siamo anche passare di là vedete che casa antica c'è anche l'officina qui ci sono un po di rami da tagliare perché è abbandonata da tantissimi anni tant'è che adesso è diventata un covo di piccioni adesso togliamo un attimo i rami poi entriamo dentro tra poco amici mamma mia vediamo qui è ridotta male sta casa e poi piena di cagate piena di cagate di piccioni allora questa dove essere la cucina e allora quello lì era il bagno guarda c'è anche la vasca vedete qua tutta farò va buttata qui per terra che puzza guarda sta sedia la cucina che di lavello le piastrelle qua c'era un armadio mamma mia vediamo questa era una stanza vedi era una stanza quello era armadio guarda che armadio smerdato mamma mia che schifo che schifo tutto marcio guardate che stanza vedete sopra sopra non c'è il pavimento manca proprio il pavimento e di qua dove si va di qua dove si va per andare in questa stanza devo uscire di qua mi fa un po schifo un po schifo guardate qui guardate mamma mia che schifo un ripostiglio un sacco di monnezza lì in fondo c'è un mobile fa proprio schifo poi c'è un adesivo qui cosa c'è scritto onda z onda z cosa era una camera da letto questi interruttori 1920 guardate qui tutto marcio che schifo non è che sia proprio una cosa da la vedete in buono ci hanno messo già derubati tre volte per favore basta e cosa vogliamo rubare qua ma avete visto la schifezza che c'è qua dentro ragazzi avete visto ma cosa vuoi rubare qui andiamo a vedere qua dentro madonna mia guarda che che cosa che divano che divano che divano tutto smerdato poi ci sono dei libri anni 70 e che punza la sedia per terra qui è murato qui è murato guarda che sta sedia anni 20 guarda che librio scienza naturale vedi madonna mia che libri antichi i vius scaduti da 40 anni mamma mia che antichità pure i vius scaduti guarda la maniglia della porta guarda guarda che antichità guarda qua c'è altra monnezza vedi vedi qua c'era una veranda con una tenda verde e qui c'era un lampadario vedete tutto decorato c'è una decorazione ah qui c'è la madonna non ho vista la madonna guarda la madonna la madonna col bambino guarda la decorazione antichissima qua forse c'è chissà che c'era il camino o un termosifone mamma mia che antichità i piani di sopra sono tutti tiroccato qua ci sono delle scale che vanno su ci sono delle scale che vanno su di qua eh abbiamo passato di qua ci conviene o passiamo da fuori insomma no mi pensa che qua qua si può andare al piano di sopra ci dobbiamo mantenere qua eh a tra poco ragazzi eccoci qui ragazzi al piano di sopra vedete interruttore 1920 mamma mia eh guarda qui che sedi antiche mamma mia vedete qua è tutto diruccato avete visto e il pavimento qua non è manco non è manco chissà che cosa eh vedi una stufa vecchia al cherosene vedi quella ci sono i piccioni ci sono i piccioni vediamo qua se si può non è che sia proprio tanto sicuro eh ma qua ci sono delle cose delle uova vedi eh ma qua era uno studio di registrazione ragazzi qua venivano a suonare vedete avevano fatto un studio di registrazione ci avevano messo per attutire i rumori i cosi delle uova hai presente i cosi delle uova il polistirolo vedete polistirolo e contenitori delle uova qui venivano a registrare la musica vedi c'era qualche gruppo che veniva a registrare la musica questa prima era doveva essere una cosa vedete vedete qui era un ex studio di registrazione lì è una porta che dà nel vuoto qua c'è una vecchia cassa banca lì in fondo non so cosa c'è fammi andare a vedere dietro quella porta piano piano perché qua non sai vedete qua vedete 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 allora vediamo un po' vedete vedete vietato fumare vietato fumare non si legge bene perché vietato fumare sopra c'è tutto polistirolo vedete mamma mia che antichità guarda qui guarda che antichità la sala di registrazione lì si va giù guarda qui guarda tutta dirucata e questo è ci hanno messo i cosi delle uova e qua suonavano qui suonavano vedi che porta tutta scagazzata dei pigheons e qua c'erano le sedie vedi e qui ci forse secondo me ci sono dei piccioncini qua sopra qua dietro la porta ci sono degli adesivi anni 80 petite flower friscio estate vedi inverno 78 vedi lì quando sono nata io che antichità anni 70 peter flowers si chiamavano sì sì friscio estate ma fast for record vedi qua c'è pure il campanello vedi peter flowers madonna mia ragazzi aspetta che devo fare una foto a sta porta così devo permettere il titolo al video a tra poco a tra poco a tra poco Grazie a tutti.